Egli è la verità, perché Dio è luce. E in Lui non ci sono tenebre, ci dice la prima lettera di Giovanni. Ora, Signore, Tu sei Dio e le Tue parole sono verità. Per questo le promesse di Dio si realizzano sempre. Dio è la stessa verità, le Sue parole non possono ingannare. Proprio per questo ci si può affidare con piena fiducia alla verità e alla fedeltà della Sua parola, della parola di Dio in ogni cosa e in ogni situazione. All'opposto, il diavolo è menzogna. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, sempre la prima lettera di Giovanni. È veritiero, è la verità stessa e come tale non si inganna e non può ingannare. Quando rivela se stesso, il suo insegnamento è fedele, è sulla sua bocca. Quando parla a noi, Dio, essendo la verità, può donare Egli solo la vera conoscenza di noi stessi e di ogni cosa creata. Quando manderà il suo figlio nel mondo, sarà per rendere testimonianza alla verità. Giovanni capitolo 18. E sempre la prima lettera di Giovanni afferma «Sappiamo che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio». «Sappiamo che il figlio di Dio è venuto, e ci ha dato l'intelligenza per conoscenza di Dio». Dio è venuto a